E sempre dalla 45esima edizione del Nautic Sud ci siamo soffermati su qualcosa che avevamo già intravisto l'anno scorso perché la prima uscita ufficiale l'ha fatta proprio qua al Nautic Sud, la Due Bar, con me c'è Mario. Un mezzo particolare che voi avete portato già l'anno scorso, le avevate presentate ma eravate un po' timidi, vi eravate affacciati su un mercato nuovo che è appunto quello dei gommoni. Una linea che è partita con delle idee ben precise, dare tanto spazio per vivere più che altro la giornata di mare, quindi un mezzo che è semplice anche nel suo utilizzo, che permette di raggiungere velocemente quello che poi qua sul golfo c'è solo l'imbarazzo della scelta, se andare a Ischia, Capri, Ventotene, Costa Amalfitana, Sorrentino, veramente chi più ne ha fine metta. Ecco un mezzo comodo, semplice, una misura ideale anche per iniziare, per chi magari non ci è mai andato per mare. È un gommone studiato che appunto dagli spazi, dalla console che è fresata a controllo numerico per dare una linea, non la solita linea. Specifichiamo cosa significa, a controllo numerico significa poter fare delle elaborazioni dando delle forme che in altro modo non sarebbe possibile. Sì, si vede dalla geometria, da questa doppia curvatura, dalle linee, comunque una console studiata, come tutto il resto anche il disegno della coperta, è studiata per ottimizzare gli spazi e per godersi il gommone nelle giornate di mare, in divertimento e in sicurezza. Intanto spieghiamo come nasce 2 bar, perché molti magari penseranno a questo punto alla misura della pressione del tubolare. È proprio quello, è proprio quello. Non è 2 bar, ma è 0.2 bar la pressione del tubolare, che è l'elemento caratteristico delle nostre imbarcazioni, questi batteri pneumatici. Poi bar è anche il nostro nome di famiglia e quindi... Il bar è anche quello che poi si può fare una volta messa l'ancora, perché qua diventa la nostra isola felice, sul quale possiamo fare aperitivi, possiamo goderci una giornata di mare, con un mezzo che appunto prendi sulla poppa, prendi sulla prua, davvero qua c'è un po' tutto quello che serve, perché in pochissimo spazio avete dato un'isola felice a chi vuole iniziare. Sì, anche nello studio dei Gavoni, che sono abbastanza ampi e poi ordinati, ci teniamo molto all'ordine e alla pulizia, negli spazi anche interni dell'imbarcazione, perché a bordo lo spazio non basta mai, noi abbiamo cercato di ottimizzare anche quello. A quanto può costare questo comune? Questo comune lo stiamo proponendo a 23.000 euro, il prezzo in packaging con un motore e il prezzo comprensivo Diva. Questa versione qui che è accessoriata, quindi ha il serbatorio del carburante da 70 litri, il serbatorio dell'acqua con impianto doccia autoclave, luci di navigazione, un estereo, tendalino, la tappezzeria ben curata. Tutto quello che insomma vediamo a 23.000 euro lo portiamo via. Sì, sì, sì. Penso che tutti potete iniziare ad andare per mare con 23.000 euro, avete un mezzo sicuro, un mezzo comodo, con tanti spazi che sono dedicati proprio alla vita di godersi una giornata di mare, quindi la cifra è davvero a portata di tutti e tra l'altro senza patente, perché questo monta un 40 cavalli, più o meno quanto avete provato? Noi con un, posso dire la marca del motore, diciamolo, con un Mercury abbiamo raggiunto 25 nodi con tre persone a bordo. Quindi insomma senza patente, un 40 cavalli vi fa viaggiare a 25 nodi che poi tra l'altro è la velocità di crociera che usano un po' tutte le imbarcazioni, anche quelle che fanno 40 nodi solitamente le vediamo passare a 25 perché poi è la velocità piacevole dove ancora si può fare due parole e si riesce ancora a godersela la navigazione, dopo i 40 nodi comincia a essere un po' più impegnativo, comunque motorizzandolo ovviamente con un 100 cavalli insomma le prestazioni cambiano. E' omologato fino a 150 cavalli per coprire un po' un range più ampio. Si può divertirsi anche dando manetta. Anche perché in mare una potenza maggiore è sinonimo di sicurezza nel gestire le onde e gestire il mare e ognuno, ogni cliente lo può... Ma è giusto che si cominci anche senza patente e poi da lì la crescita viene spontanea, si può cambiare il motore? In base ai desideri delle utenze uno può motorizzarlo come meglio crede. Complimenti ancora. Grazie mille, grazie mille.